Ciao Lorenzo. Ciao. Quanto sei alto? 1,97. Perché? I miei genitori mi hanno fatto così. Mi fai sfigurare? No, dai. Vabbè, niente. Terzo rapper di questa sera, come è andata? No, è andata bene, è andata bene, mi sono divertito in mezzo a tutti voi, mi è andata bene. Vieni qua, che già sei alto, poi si allontanano tutti. No, dai. Siete stati tutti brevissimi, è stato davvero un peccato, mi è spiacciuto davvero tanto. Eh, vabbè, dai. Però ci siamo divertiti tutti e tre, io già canto in giro, faccio le serate a Broni, faccio. E quindi venire qua è stata un'esperienza nuova, venire qua nel palco. No, sei tra l'altro molto giovane. Sì, ho 19 anni. E vai già in giro, hai già un tuo giro, un futuro brillante, una strada lunga. Speriamo, è quello che voglio fare, quindi... E io te lo auguro. Grazie mille. A presto. Grazie, ciao. Ciao, ciao.